Avremo l'inaugurazione di questa mostra fantastica, di queste 21 divine, queste protagoniste che interpretano la storia di altrettanti personaggi di donne che hanno dato un loro contributo ideale, umano, artistico alla storia di 2000 anni. Un elogio alla bellezza, al Made in Italy, nonché la celebrazione di alcune delle più influenti personalità della storia, volge a conclusione, con una mostra fotografica aperta alla cittadinanza, il Progetto Divine, promosso dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese e Dolomia Unifarco, per il quale, ispirandosi alle opere d'arte letterarie, le studentesse, gli studenti degli istituti Leonardo da Vinci e Segato Brustolon, hanno dato vita a dei veri e propri quadri viventi, capaci di tratteggiare il fascino di queste donne di un tempo, muse ispiratrici di stile e bellezza. Fra le divine, pronte a rivivere con gli scatti del fotografo Alberto Bogo, nelle studentesse di oggi, la regina Cleopatra, Beatrice, la musa di Dante, ma anche Matilda di Canossa e non solo. Queste ragazze del Leonardo da Vinci, che hanno posato con i costumi costruiti dall'Istituto Brustolon, saranno loro le divine e al Palazzo Bembo saranno protagoniste e all'inaugurazione avremo come madrina l'assessore regionale Elena Donazzano. L'inaugurazione è prevista a Palazzo Bembo giovedì 19 maggio alle 11.30, la mostra sarà poi fruibile fino al 20 giugno, mentre a settembre verrà riallestita l'ex Chiesa dei Gesuiti ed un elaborato finale sarà distribuito a tutte le scuole, un progetto per valorizzare i talenti dei futuri professionisti di domani, consentendo al contempo dunque al pubblico di riscoprire l'animo dell'universo femminile.